Benvenuti in quest'ultimo video, io sono Adrei e oggi siamo su Minecraft Pocket Edition. Allora ragazzi, oggi, non so, notate qualcosa di strano? Ok, allora, partiamo dal presupposto che io il video l'ho fatto, però c'è stato un piccolo inconveniente, che praticamente il video è sparito. Cioè non so se sono stato io nabbo che i video, magari che ne so, il video l'ho cancellato per sbaglio, così, però mi è dispiaciuto. E per questo io oggi vorrei dire anche due parole. Allora, innanzitutto, sapete, allora oggi è uscito Call of, no, Cops and Robbers. E ragazzi è uscito l'episodio che doveva uscire domani di domenica, per cui domani uscirà l'episodio che doveva uscire oggi. Quindi non vi spaventate, non dite cosa, ma perché stai parlando che ieri è stata la giornata Minecraft. Beh, oggi è la giornata Minecraft. Però ragazzi, cioè, vabbè, alla fine... Quindi adesso mi tocca registrare questo qui di nuovo. Vi faccio vedere intanto che ho fatto. Ho fatto qui la... questa specie di tenda di legno. Qui, vabbè, là in fondo ci metterò un'altra fornaccia, qui. Vi ricordate che avevo craftato due... Cioè, voi non lo ricordate che non ve l'ho spiegato. Però io nell'episodio ho craftato per sbaglio due crafting table. Più che altro per sbaglio no. Però... No, aspettate un attimo. Cosa fa? Ma che... Vabbè, niente. Stavo dicendo appunto che... Le ho craftate due perché in pratica una c'avevo di sopra. Ora, se era buio, allora ho scavato un po', ho fatto una fornace perché, non so, mi ero bloccato. Allora, ho scavato un po', ho fatto una fornace. Poi, ho fatto anche una crafting table per farmi un altro piccone. E... che è un... E... Così. Intanto si sta facendo notte, come vedo. Allora... Stiamo pronti. Sì. Finalmente abbiamo un... Una casa, come si deve. Che queste qui non possono essere rotti dagli zombie. Non... Oddio, mi è sembrato un creeper. Che dai creeper possono essere rotti, sì. Perché? Perché? Perché... Vabbè, ragazzi, quest'anno già non dormiremo. Ehm... Guarderemo il chiaro della luna. No. Ehm... Andremo in miniera. Allora. Adesso io proporrei di... Uno. Farci qualche torcia. Due. Che ne dite se iniziamo a scavare qui? Ecco. E da qui partiamo. Ok. Aspettate... BOOM! Ah, c'era la terra. Ok. Allora. Scaviamo anche qui. E dovrebbe... Ecco la... La roccia. Ah, così. Ehm... Iniziamo a scavare. Che culo! Cioè, ragazzi, subito carbone, eh? Allora. E ne sto trovando ancora, ok? Adesso ho paura che... Tipo che ne so scavo, trovo la fornace. Però a parte che siamo abbastanza in basso, quindi... Non dovrebbe. Ok. Questo è il carbone, l'abbiamo preso. E vabbè, niente, è più torce. E anche più roba cotta. Ok. Questa è una puntata in cui faccio mining, così a caso un po', per farvi vedere anche cosa si trova qui, in Pocket Edition. Che si trovano le stesse cose che si trovano in Vanilla, eh? Però qui magari certe si usano di più, certe si usano di meno. Il diamante si usa sempre, comunque. Allora. Così, bello. Bello, bello. Ora. Scaviamo ancora un po' e... Vabbè, speriamo di trovare del ferro. Uh, gravel. Per ora però scava questo. La gravel, vabbè. Con le torce... Usiamo le torce al posto della pala. Oh, abbiamo pure una flint. Così. 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 E così. Perfetto. Allora, facciamo così qualche materiale, almeno lo voglio trovare. Niente, niente. Sicuro. Sicuro, 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 sicuro. Scuro. Dai, 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 vabbè. Niente materiali. Noi intanto torniamo su. Comunque, ragazzi, gli episodi qui si saranno di... Intorno ai venti minuti. Cioè, sul serio? Intorno ai venti minuti perché... Cioè, dieci minuti. Perché non ho... Una connessione così veloce da... Che con i tempi miei faccio... Un... Un minuto. Allora. Cioè, non so che... Cioè, in pratica la mia connessione non va veloce. Non va veloce come la luce. Allora, questo è il tagliapietra, ragazzi. E meno male che abbiamo cotto là un po' di pietra perché... Ci serve adesso... Allora, come... Boh, adesso lo dico. Allora, spacchiamo qui intanto per bene. Spacca anche qui. Spacca, dai. Poi, così va bene. A questo punto prendiamo questa. Facciamo una cosa di questo tipo. Poi... Boom, 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 boom. E ci manca la pietra. Allora. Uno, due. Ok. Adesso, vabbè, c'è da aspettare... Che cuocqua. Allora, quanti minuti siamo? Otto minuti, di già. Cioè, adesso registro un altro po' e dopo... Perché... Ragazzi, io adesso lo devo editare, lo devo mettere a caricare adesso nel pomeriggio. Quindi... Anche i giochi... Magari... Multiplayer... Io non li posso fare. Che pizza. Vabbè. Andiamo questo. Però voglio concludere in bellezza. Voglio... Fare tutto il pavimento in... Non in terra. In mattoni. Allora. No qui. No. Perché... Ho sbagliato. Vabbè. Allora. Prendi questo. Sbagaduto. Ok. Allora. Così. Adesso non ci rimane che prendere gli ultimi quattro. E con questi farci... Altri mattoni. Mattoni. Perfetto. Allora. Gli zombie stanno bruciando... Per il fuoco. È mattina. Oh. Che bel ritmo. Ma perché... Vabbè. Ma... Io mi chiedo. Perché cavolo mi prendi il cancello? E allora vaffanculo. Oh. Scusate però... Quando ci ho... Ci ho... Eccolo qui. Scusate la parola però... Devo concludere il video. Quindi... Allora. Ragazzi. Se il video vi è piaciuto mettete un piace. Commentate. Iscrivetevi. E... Vabbè. Noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti. Ciao a tutti.